Salve, buonasera, prego, accomodatevi pure e benvenuti nel mio ristorante. Avete per caso prenotato? Ok, allora un attimo che controllo. Allora, prendo la mia agenda e controllo subito. Ok, queste sono le prenotazioni di oggi, mi può dire il suo cognome? Bianchio. Ok, eccolo qui, un tavolo per tuo, giusto? Benissimo, è proprio qua di fianco. Ecco, accomodatevi pure e arrivo subito con i menù. Ok, questo è arrivati, perfetto. Allora, vi siete accomodati? Benissimo. Allora vi porto subito i menù, in modo tale da non perdere tempo e da farvi mangiare il prima possibile. Spero abbiate tanta, tanta, tanta fame. Allora. Ecco. Uno a lei. Grazie a lei. E uno a lei. Ecco qui. Perfetto. Guardate, la nostra specialità sono le pizze. Ne abbiamo di tantissimi, tantissimi tipi, ma da poco abbiamo inserito anche dei favolosi hot dog. Abbiamo da quelli più semplici, quelli più classici, a quelli un pochino più particolari, magari inserendoci anche qualche altro tipo di carne, qualche salsa, magari cipolle particolari, specialmente peperoncino. Super, super, super piccante. Avete già deciso? Ah, ma allora eravate venuti qua già con qualche idea, giusto? Ah, ecco. Allora riprendo la mia agenda, così scrivo subito la vostra ordinazione. Allora. Ecco qua, ditemi tutto. Ah, ecco, volete una delle nostre pizze speciali. Diciamo che siamo famosi per quelle. Poi, ah, volete provare uno dei nostri hot dog? Uno classico, ok? Hot dog classico, ok? E come contorno, volete qualcosa delle patatine fritte e volete una porzione piccola, media o grande? Media. Porzione media, patatine fritte. Ok, e da bene che cosa volete? Una bibite casata, ok, perfetto. Sì, abbiamo una bottiglia, abbiamo quelle bottiglie da un litro, o se no ce le abbiamo in lattina, come volete. In bottiglia, perfetto. Bottiglia, benissimo. Una pizza speciale, uno hot dog classico, una porzione media di patatine fritte e una bibite casata in bottiglia, giusto? Benissimo. Guardate, siete molto, molto, molto fortunati perché ho qua di fianco il carrello, già con tutte le vostre cose, perché cerchiamo sempre di avere tutto pronto. Ormai sappiamo che i nostri clienti vogliono spesso la stessa cosa, quindi ho già tutto qua di fianco. Accomodatevi che vi porto tutto subito. Allora, come prima cosa ho qui la vostra bibita. Ho qui la vostra fruit choice, che è questa bibita casata al gusto di frutta. Guardate, queste sono buonissime. Sono fantastiche, infatti vanno via come l'aria. Sì, poi se ne volete un'altra, chiedetene e ve ne porterò. Questa qui è la vostra bibita. Ok, perfetto. E poi abbiamo già le patatine fritte. Sono in questa meravigliosa confezione con scritto POTETO. Guardate, con il cuoco non sono meravigliose. Cerchiamo sempre di creare un packaging accattivante, però rimanendo sempre nel classico, sempre nella nostra tradizione di pizzeria a conduzione familiare. Tutti i nostri clienti devono sentirsi a casa, come se fossimo tutti familiari. Guardate che carine. E sono anche buonissime. Non per vantarmi, ma abbiamo le patatine più buone in tutta la città. Eh, ve l'avevano detto. Ecco, ecco. Queste qui ve le appoggio qui. Con cui voi avete già impiatti sul tavolo. Voi ve le potete dividere come volete. Oppure le potete mangiare direttamente dal cartone. Certo. Adesso arriva in pezzo forte la nostra pizza speciale. E ci viene portata direttamente in teglia. Guardate. Ecco qui la nostra pizza speciale. Abbiamo olive, prosciutto, fiusde, pomodori e verdure. Ma la cosa principale è che c'è sopra questa salsa particolare e segretissima che fa impazzire tutti, tutti, tutti i nostri clienti. Allora, adesso io ve la vado a tassi. sbagliare i spicchi, in modo tale che poi dopo la possiate prendere direttamente voi. Allora. Ecco qui. Perfetto. Taglia veramente molto molto bene questo rullo. Per sicurezza la stacqua con un pochino dai bordi. Per evitare che poi dopo ci siano paciughi desiderati. Ok. Ok. Ok, perfetto. Poi adesso prendo questa bellissima spadolina. Guardate come bella. Questa spadolina rosa è molto molto bella. Noi vogliamo sempre avere le cose migliori, ma anche le cose più carine. sempre per far vedere ai nostri clienti quanto ci teniamo a loro e alla nostra qualità. Ok. 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 Adesso io ve ne prenderò due fette e ve le metterò direttamente nel piatto, in modo tale che possiate assaporarla sin da subito. Ok. 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 Si stacca benissimo. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Guardate che meraviglia. Guardate. Ha un'altezza perfetta. 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 Questa pizza. L'ha perfezionata dopo tanti 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 tentativi. E adesso ne è fierissimo. Allora, ne appoggio un pezzo qui. Ecco qui. E poi, ne prendo un altro pezzo. Ok. Ecco qui un altro pezzo. E adesso a lei. Perfetto. Questo qui ve lo lascio così, in modo tale che poi lo possiate utilizzare anche voi dopo. Questo ve lo metto sul tavolo lì. Proprio qui. Anzi, mi sono anche dimenticato di riprendervi i menù. Ve li posso richiedere? Grazie. Aspetti che le do una mano. Ok. Si, darà fretta di farvi mangiare. Guardate, veramente. Ok. E adesso, per ultimo, ma non di certo per importanza, ho qui lo dog. Guardate che meraviglia questo dog. Ecco qui. È il classico dog. È il classico dog. Abbiamo la carne e abbiamo il pane. Guardate com'è carino. Veramente. Ed è anche delizioso. Soffidate. Soffidatevi. Veramente delizioso. Buonissimo. E se magari qualcuno vuole sollaccarle, lo si può staccare benissimo. perché non è uno di quegli dog che ha fatto un tuttuno con il pane. Certo. Cerchiamo sempre di mantenere un pane croccante e uno dog che abbia, che mantenga la sua struttura. in modo tale da far sentire entrambi gli ingredienti. Ecco qui. Anche questo ve lo appoggio qui. Perfetto. Allora, non mi resta che augurarvi buon appetito. Però, visto che siete stati così gentili e avete apprezzato così tanto, senta subito la nostra cucina. Vi vorrei fare un piccolo dono. Per dopo, quando avrete finito di mangiare la pizza speciale e lo dog e le patatine, vi lascio un dolcetto. È un dolce freddo che è stato appena tirato fuori dal frigo. Perciò lo potete lasciare lì fuori a raffreddare mentre mangiate la pizza. Ma, mi piacerebbe davvero offrirvi questo dolce. Ovviamente, gratuitamente. E se lo volete, grazie. Allora ve lo porto subito. Te. Eccolo qui. E' questa tortina fatta in casa, ovviamente. E ha questa glassa sopra. Ed è la fine del mondo. Veramente. Guardate com'è alta. Com'è limitato bene. E' veramente, veramente deliziosa. Fidatevi. Mi piacerebbe potervela dare in modo tale da ringraziarvi per la vostra gentilezza e per la fiducia che avete posto nel mio locale venendo qui a provare oggi i miei prodotti. Grazie. 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 I complimenti fanno sempre tanto piacere. Allora ve lo appoggio qua sopra. Ecco qui. Allora, niente. Io vi auguro bellissimo, bellissimo pranzo. Anzi, cena. E niente, se avete bisogno chiamatemi e io vengo subito ad aiutarvi. Va bene? Grazie mille. Buon appetito.